Oggi siamo invitati anche noi a lodare Dio insieme a Zaccaria. I motivi per glorificare Dio sono tanti. Basta guardare ai piccoli miracoli che il Signore compie nella nostra vita ogni giorno. Bisogna ringraziare prima di tutto per il dono di Gesù all'umanità. La sua venuta nel mondo ha cambiato il corso della storia per sempre. In che modo vuoi dirigere i tuoi passi sulla via della pace cominciando da questo Natale? Quali concreti miracoli ha compiuto Dio nella tua vita in quest'anno che sta per chiudersi? Prepara il tuo cuore a ricevere il bambino Gesù in un clima di silenzio e preghiera.